guarda dove vedi questo è proprio quei cani nati stanchi è cagoso è come me non mi interessa parlare un po' di otite ciao 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 c'è il sangue sangue? l'altro guinciaio l'altra corda perché lei la mangia si fa male ciao tu testina veloce fanno il swishet come per la polvere ma lui ha un pelo sei testina veloce sembra una palla di verde tutti belli che il sangue è il sangue nelle mani esatto che fianti no